Altro concetto importantissimo per la dieta chetogenica è che nel momento in cui noi andiamo ad acquisire, ad assumere cibo, questo cibo che noi assumiamo, deve essere chiaro a tutti, può avere due funzioni. Una funzione energetica, cioè quella per produrre energia che si esprimerà sotto forma di lavoro meccanico o di lavoro fisico, o sotto forma di energia termica, calore, perché noi siamo animali omiotermi e questo l'ho già spiegato. L'altra parte del cibo svolgerà una funzione plastica. Qual è la funzione plastica? Quella praticamente di ricostruire le masse muscolari, le ossa, le cartilagini, le articolazioni, il connettivo, la pelle, necessari, i nostri organi interni necessari per mantenere le funzioni, perché noi sappiamo che mentre il corpo va incontro ad una funzione, il corpo viene distrutto. Questo accade particolarmente con i muscoli in cui noi perdiamo fibra muscolare che poi viene ricostruita dal nostro organismo sotto controllo cerebrale che apporterà eventualmente alla sovracompensazione, cioè a una crescita superiore di quei muscoli per sostenere quel lavoro muscolare che abbiamo affrontato prima, dopo affrontarlo con minore fatica. Bene, e questa è la base della crescita muscolare, del lavoro muscolare, dell'allenamento. Ora, quindi, quando noi ci rivolgiamo ad un cibo, noi abbiamo due funzioni, una funzione plastica e una funzione energetica. Quando noi cominciamo il digiuno proteico, che con la dieta chetogenica proteica, noi dobbiamo capire una cosa essenziale, che le proteine che noi assumiamo, ed ecco l'importanza di proteine a lento rilascio, che durano almeno sette ore all'interno del nostro stomaco e ci proteggono, rilasciando lentamente oligometidi e amminoacidi, ci proteggono dal catabolismo muscolare, che avverrebbe per mantenere una funzione fondamentale che è la funzione gluconeogenetica, che andrebbe a intaccare gli amminoacidi ramificati, che sono quelli maggiormente deputati a questa funzione, praticamente sono rappresentati dei nostri muscoli. Quindi i muscoli sono la fonte energetica e biosintetica di più rapida utilizzazione per il nostro corpo, che con molta difficoltà va a utilizzare invece il grasso, che se lo tiene ben protetto. Solo quando siamo piccoli noi abbiamo un alto metabolismo del grasso, e quindi un alto catabolismo del grasso. Quando siamo adulti il grasso noi più facilmente lo accumuliamo, lo biosintetizziamo, che invece degradarlo e catabolizzarlo a scopi energetici. Con la dieta chetogenica, come con l'esercizio muscolare, andando a correre tutti i giorni, noi riusciamo ad utilizzare questo grasso corporeo, cioè diventiamo animali in grado di bruciare il grasso. Bene, questa caratteristica è la caratteristica fondamentale alla base della dieta chetogenica. La quota proteica che invece introduciamo, basata su un principio ben preciso, dettato da Blackburn, cioè di quel quantitativo che va in base al sesso, all'età, all'attività fisica e al peso ideale, noi praticamente introduciamo quella quota proteica più che altro con funzione plastica. e in piccola parte per con funzione gluconeogenetica, salvando i muscoli, e quindi se noi salviamo i muscoli dal catabolismo muscolare, stiamo svolgendo una funzione plastica. Anche in questo senso. Quindi non energetica, solo una piccola parte delle proteine finirà in energia. Che accade però se noi mangiamo, e qui rispondo ad un altro paziente, Se noi mangiamo un quantitativo eccessivo di proteine, andiamo in iperproteica, noi cosa facciamo? Rischiamo che molta parte di quelle proteine in più, che non ci servono come funzione plastica, perché più di tanto noi non riusciamo ad attivare, ad avere funzione plastica nel nostro organismo, perché non ci alleniamo, perché la funzione plastica si ha dopo l'allenamento nella cosiddetta finestra anabolica, che dura tre ore dopo l'allenamento, e dà il 300% della sintesi proteica. Mentre normalmente nel giorno noi abbiamo solo il 12% di quella sintesi proteica ideale. E allora, quello che noi andiamo a fare, praticamente se mangiamo più proteine, molta parte di questa quota proteica introdotta in più con il cibo, carne, pesce, uova, praticamente cosa fa? Viene trasformata, mediante un processo di transaminazione, in alfa-chetoacidi e quindi in zuccheri, va nel ciclo di Krebs, e siccome non viene utilizzata a formare i chetoni, rischia di diventare questa quota in più, praticamente essere portata nel citoplasma e dare vita a livello citoplasmante alla sintesi di grassi. Quindi noi rischiamo che se mangiamo tante proteine, queste proteine in più che noi mangiamo alla quota proteica che noi abbiamo stabilito come ideale, possa trasformarsi alla fine in grasso. Questo noi lo evitiamo assumendo la garcinia cambogia, ma soprattutto evitando di introdurre una quota proteica maggiore di quella stabilita in base ai dettami che abbiamo seguito, che vengono dati dalla dieta di Blackwood, dai principi di Blackwood.